FEDFORTASE 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 Presentato dall'azienda vita vinicola alla Cascina del Colle di Villa Magna il Mammut Vino Pregiato prodotto in sole 1800 bottine. Questa sera parliamo di vino, siamo a Villa Magna nel pub storico 88, siamo con Alessio Donofrio della Cascina del Colle per parlare di questo vino, di questa edizione limitata Mammut. Innanzitutto perché questo nome? Mammut nasce qualche anno fa per rivocare un po' quella che è la storia della nostra azienda, appunto fu ritrovato nella fine degli anni 60 dove sorge l'attuale cantina, un reperto, un pezzo di zanna di Mammut e allora da lì l'idea di dedicarla a un vino possente, maestoso, qual è il nostro prodotto e cercare di valorizzare quella appunto che si collega alla storia della nostra azienda e riportarla su quella che può essere la storia futura di un nostro vino. Parliamo di una selezione Bultrini limitata a 1800 bottiglie. Sì, innanzitutto tengo a nome dell'azienda a ringraziare Matteo Bultrini, l'artista che ha realizzato questa speciale edizione che si è prestato con molta passione e molta dedizione in questo progetto. Ci siamo trovati subito sulla stessa linea donna in quanto abbiamo cercato di dare una rivisitazione molto particolare che poi spiegherà lui, visto che lui è l'artista e abbiamo voluto coniugare quello che è il prodotto e lo stile dell'azienda con quello che era il suo modo di intendere l'arte e di metterla poi su carta. Alessio, siamo a Villa Magna, siamo nella terra del vino, vogliamo parlare della cascina del colpo? Beh, sì, è una piccola azienda a conduzione familiare. Già in passato ci siamo messi in gioco con vari eventi, il più rinomato Vin Italy, come ogni anno ormai partecipiamo da 12 anni ininterrottamente. E l'evento più importante che si tiene forse non solo in Italia? Sì, a livello internazionale sicuramente la manifestazione più importante che racchiude in sé molti sia produttori ma soprattutto esperti del settore che si interessano al prodotto appunto come il vino. In passato, come detto anche nella presentazione della Villa Magna Doc, quindi come detto prima, quello che è il forte legame con il territorio, sicuramente un prodotto come Villa Magna Doc, come Montepulciano d'Abruzzo, in questo caso il Mammut, devono per forza di cosa diventare il fiore all'occhiello del nostro territorio e in primis la nostra azienda. A proposito di vini, oltre al Mammut, vogliamo parlare di altri vini, delle vostre specialità e anche dei progetti e dei programmi futuri per il 2015, visto che siamo a fine anno? Sì, allora sicuramente come a livello aziendale, nonostante siamo una piccola media azienda, comunque lavoriamo su circa 15 ettari di terreno di proprietà, produciamo intorno alle 200-250 mila unità bottiglie totali aziendali e diciamo si differenziano molto bene, abbiamo diverse etichette, quindi lavoriamo dal classico Montepulciano d'Abruzzo d'Oc per passare al Trebbiano, che è un altro vitigno molto rinomato abruzzese, per passare poi al pecorino e alla passerina. Abbiamo alcune particolarità come il rosato con la classica lavorazione del cirasuolo e abbiamo anche un rosè Cube 71, mi fa piacere sottolinearlo perché è un prodotto molto particolare rispetto ai classici rosati, in quanto è un blend tra Montepulciano e pecorino e che è stata un po' una scommessa del nostro enologo insieme a mio padre e Giancarlo Fieni, il nostro indimenticato collaboratore, che insomma hanno vinto per adesso, hanno vinto la scommessa vista che è un prodotto che si fa valere anche sul mercato. C'è un'amore, siamo a fine anno, tempo anche di bilanci, che 2014 è stato questo per la cascina del volo? Sempre facendo gli opportuni, volando sempre con i piedi a terra, è stato un anno molto soddisfacente, ci siamo tolte tante belle soddisfazioni e abbiamo visto che c'è un mercato che se stimolato, se curato nei minimi dettagli risponde e come, è un mercato che come si dice in gergo tira ancora, nonostante la crisi che ci affligge un po' intorno, ma noi siamo positivi, siamo molto appassionati. E' un'azienda giovane anche. Sì, e questo non ci fa paura sicuramente, sempre però con i piedi di piombo come detto prima, il bilancio è più che positivo sicuramente. Progetti futuri? E proprio per i progetti futuri il nostro intento è quello di chiaramente prendere quelli che sono i risultati di quest'anno come punto di partenza, mai come punto di arrivo. E c'è una piccola traiette sorpresa che poi più l'anno rimanca a svelare, sarà un 2015 in cui l'azienda, essendo dal 97 che esistiamo, quest'anno nel 2015 compierà il diciottesimo anno, quindi diventerà maggiorenne e quindi si inizierà a comportare da persona adulta e diciamo la svolta che stiamo pensando di dare all'azienda è da azienda adulta che finalmente è consapevole dei propri mezzi e sa dove vuole arrivare. Matteo Bultrini è l'artista, colui che ha disegnato questa splendida etichetta su queste bottiglie mammut, queste 1800 bottiglie, bottiglie davvero di vino pregiato. Allora, com'è nata quest'idea e questo disegno? Cosa vuole rappresentare Matteo? Allora, buonasera. L'etichetta diciamo che rispecchia più che altro il valore del vino. Questo valore diretto che dà ai sensi, quindi anche dal punto di vista poi segni, diciamo che ho cercato di riportare più che altro sia dal punto di vista del colore che dal punto di vista simbolico quello che è il processo di vinificazione, quindi ci sono queste macchie di colore che sono macchie ma non a caso, che riprendono e richiamano gli elementi della natura e quello che poi ci portano, porta l'azienda a creare questo meraviglioso prodotto, quindi l'aria, la terra, l'acqua e sul fondo c'è poi questo mammut che è prima cosa simbolo di questa azienda e di questo vino e poi della forza che ha in sé questo prodotto. Il tutto è legato alla mia ricerca artistica e pittorica, diciamo perché tendo più che altro a reperire nei vari elementi della natura il segno, l'essenzialità, la purezza, quello che poi è legato a questo prodotto. Il tutto pensando alla memoria, quindi la memoria che porta in sé il vino e la memoria che porta in sé il simbolo e l'arte. Per Paolo Bellucci, collega, giornalista, curatore, critico di Matteo Bultrini, prima abbiamo parlato con Matteo di questo splendido disegno su queste bottiglie mammut dell'azienda qui di Villamagna, entrando ancora nel merito, insomma come avete scelto questo disegno? È stata una ricerca anche molto molto, per così dire, faticosa. Sì, io penso che scelta migliore da parte dell'azienda nel commissionare l'etichetta di questa edizione limitata del mammut non poteva esserci perché Matteo Bultrini è un artista che ha dedicato gran parte della sua produzione, recente produzione, al tema della memoria. È proprio dalla memoria che nasce questo vino, infatti è un fatto storico, il ritrovamento della zanna del mammifero preistorico, il mammut, e da questo avvenimento nasce proprio il vino. Quindi qual è il filo che lega Matteo Bultrini al mammut? È il tema della memoria e da qui nasce proprio la realizzazione dell'etichetta. Matteo Bultrini è un artista di Prato La Peligna che ha fatto anche altro nella sua carriera artistica? Sì, è un artista informale che ha incentrato la sua produzione soprattutto sulla tecnica della combustione. È un artista informale, ha partecipato a numerose manifestazioni sia in Italia che all'estero. Recentemente è stato invitato al premio Michetti di Francavilla, ha partecipato al premio Sulmona, è esposto in gallerie prestigiose a Barcellona, a Roma. È un artista giovane che piano piano però si sta facendo conoscere, apprezzato sia dal pubblico che dalla critica. Un artista giovane, bravo, che ben si coniuga con questa azienda che oggi presenta questo vino d'eccellenza. Certo, un vino che io oserei definire poderoso, come poderosa e forte è la pittura, l'arte di Matteo Bultrini. Vittorio Festa è l'enologo della Cascina del Colle. Festa, parliamo di un vino pregiato, tra l'altro 1800 bottiglie, quindi una selezione molto limitata. Parliamo di una selezione di nicchia di questo mammut. Sì, intanto ha detto che il Montecucciano oggi non è a tutti gli effetti uno dei più grandi rossi italiani. Nel caso specifico in questa zona, in questa azienda, siamo a Villamagna e la vocazione del territorio è stata anche manifestata qualche anno fa con la Doc Villamagna. In questo caso non è la Doc Villamagna che presentiamo, ma presentiamo una selezione particolare del mammut. In questo caso abbiamo coniugato quello che è l'arte nostra di fare il vino, l'abbiamo coniugata con un artista, a mio avviso giovane e brillante, che ha dedicato a questa bottiglia, la sua arte, la sua creatività, con questa enichetta, a mio avviso molto bella. Festa, quali sono le caratteristiche di questo vino? Scendendo un po' nel particolare. Sì, in questo caso parliamo di un vino montecucciano, il 2010, quindi quasi una riserva che affina totalmente in acciaio. Quindi in questo caso noi presentiamo questa selezione di vino in modo totalmente diversa, senza l'apporto del legno. In questo caso la qualità del prodotto deve esprimersi nel modo più autentico e immediato possibile. Va anche detto che il vino è materia viva, è materia che tende sempre a evolversi, a maturare e anche a cambiare. Quindi oggi, con la verticale di oggi, sentiremo quattro annate, con quattro caratteristiche diverse, ma soprattutto l'aspetto importante, che qui deve parlare l'uva, la materia prima, la natura, e in questo caso non c'è apporto esterno del legno, dei tannini del legno. Siamo a Villa Magna, parliamo di colline teatine, questa è un po' la patria del vino abruzzese, o comunque una delle zone da cui esce, da dove esce un vino molto pregiato? Beh sì, ho già detto prima del discorso delle doc stasera e oggi una delle definizioni che era all'occhiello, credo, del panorama vitivinicolo abruzzese. È un territorio altamente evocato e diciamo che la vocazione dell'Abruzzo la si vede in tutto quello che ha il suo territorio, la sua regione. L'aspetto importante oggi è che Villa Magna rappresenta uno delle punte di amante dell'enologia e della viticultura abruzzese. Un enologo esperto, un grande conoscitore di vino, che stagione è questa per il vino abruzzese rispetto alle precedenti. Beh, possiamo dire che non è stata una stagione brillantissima, perché oggi sentiamo, assaggeremo delle versioni, delle annate, delle vendemmie 2007 e 2008, che sono state vendemmie molto calde, ideali, possiamo dire, per la produzione di vini rossi. Il 2011, cioè il 2013, il 2014 scusate, non è stata forse la vendemmia migliore che noi ricordiamo, ma è stata un'annata disgraziata da un punto di vista agricolo. Però possiamo dire che l'Abruzzo si è difeso egregiamente e in alcune aree, in cui in questo caso è riuscito a esprimere anche quest'anno dei buoni vini di ottima qualità. Grazie a tutti.